Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Le ultime dal grande fratello, inizia ad essere troppo, non lo permetto più, parole pesanti. Ecco che cosa è successo, tutti i dettagli.Nuovi sviluppi dal grande fratello, se non avete seguito le ultime puntate, vi riportiamo cosa è accaduto nella casa più famosa e discussa d'Italia, almeno nel mondo dei reality show. Il grande fratello, ancora in onda sui canali media se dopo oltre 20 anni, continua ad appassionare una buona parte di pubblico, soprattutto per le vicende e gli intrecci, anche amorosi, tra i concorrenti. Le ultime novità sul grande fratello riguardano proprio le relazioni amorose nate nella casa e anche i terzi incomodi che si mettono a fare i guastafeste. Cerchiamo di capire che cosa è successo tra alcuni dei concorrenti del reality. Di seguito trovate gli aggiornamenti in dettaglio, compreso lo sfogo di uno dei protagonisti. Grande fratello, lo sfogo di un inquilino.Come gli spettatori abituali del grande fratello avranno notato, nell'ultimo periodo l'attore Massimiliano Varese e la modella Monia Laferrera si sono molto avvicinati. Anche se sarebbe più corretto dire riavvicinati. I due, infatti, avevano già avuto una relazione in passato, poi interrotta per motivi familiari dell'attore. Recentemente, Varese e Laferrera sono stati visti molto intimi e in confidenza, lasciando intendere un ritorno di fiamma tra loro. Tra i due, però, si è messo in mezzo un terzo incomodo.Una situazione che non ha fatto per nulla piacere a Massimiliano Varese, che prima ha fatto capire a Monia Laferrera di non gradire la situazione che si era venuta a creare, lanciandole qualche frecciatina. Poi si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo. L'attore ha manifestato chiaramente tutto il suo disappunto riguardo a un altro inquilino della casa che secondo lui si sarebbe avvicinato troppo alla modella e mamma. Varese ha detto chiaramente di essersi accorto della situazione che secondo lui inizia a essere troppo. «Non mi piacciono più i prezzemoli. Non lo permetto più. Non mi piacciono gli strateghi», ha aggiunto l'attore, smentendo comunque di essere geloso. «Le persone devono imparare a stare al loro posto», ha concluso. Ma chi sarebbe questo terzo incomodo che si è messo in mezzo tra Massimiliano Varese e la modella Monia Laferrera? Si tratterebbe del modello Vittorio Menozzi. Secondo l'attore. La modella, però, lo ha smentito, affermando di avere con Menozzi soltanto un rapporto amichevole. Per conoscere lo sviluppo della vicenda e del presunto triangolo amoroso, non resta che seguire i prossimi episodi del Grande Fratello. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. Ciao!